La sfilata delle stelle dello sport anconetano illumina di luce iridata la sala Censi del Palaprometeo Estra di Ancona. Bastano i nomi dell'altista campione di tutto Gianmarco Tamberi, del fiorettista campione del mondo Tommaso Marini e quello delle ginnaste azzurre Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri perché lo sport di Ancona e provincia racconti della qualità raggiunta negli ultimi anni e faccia parlare di sé, tra ricordi di imprese olimpiche e trionfi mondiali. Oltre 70 i riconoscimenti assegnati dal CONI nell'ambito dell'annuale festa dello sport andata in scena in una sala Censi gremita in ogni ordine di posti e pronta a sottolineare con gli applausi le imprese dello sport di casa. È un momento magico per le marche e nello specifico per quello della provincia anconetana che anche nella passata stagione ha confermato le sue grandi qualità con risultati che rispecchiano l'impegno e le doti dei suoi atleti ma anche quello delle società del territorio fatte di dirigenti e tecnici appassionati. Oltre alla celebrazione dello sport di Ancona e provincia come di consuetudine la festa dello sport del CONI ha visto assegnare anche i riconoscimenti del Panathlon Club di Ancona, ben 12 quelli destinati a premiare risultati e buone pratiche sportive e scolastiche degli studenti che si sono distinti nella stagione passata. Sicuramente siamo al termine di un anno che sarà un anno da ricordare per quanto riguarda lo sport della nostra regione, per quanto riguarda i risultati ottenuti. Veramente un anno eccezionale per tutto lo sport italiano ma sicuramente dentro i risultati dello sport italiano la nostra regione ha dato veramente tanto, in particolare su tre discipline tipo la ginnastia sia maschile che femminile, l'atletica e la scherma. Ma poi tutte le altre discipline, tutte, quando dico tutte dico tutte, praticamente è quasi impossibile trovare o nei settori giovanili o nei senior una federazione che non abbia ottenuto risultati di livello minimo nazionale se non internazionale. Pertanto veramente un anno da incorniciare. Poi dicevi per la provincia di Ancona, è logico che nella provincia di Ancona abbiamo degli atleti che veramente ci ha regalato soddisfazioni a livello mondiale. Se dico Tamberi penso che non dico nulla di nuovo, se dico Tommaso Marini non dico nulla di nuovo, se dico Sofia Raffaelli o Milena Baldassari non dico nulla di nuovo. Potrei andare avanti con i ragazzi splendidi della ginnastica artistica che hanno conquistato il titolo europeo ma mi fermo perché non voglio mancare di rispetto con nessuno. Quest'anno abbiamo il record dei premiaziani, andiamo a premiare circa 70 tra atleti, dirigenti e tecnici di 28 discipline diverse tra cui 5 titoli mondiali. Questo è un grande orgoglio per il Comitato Olimpico che rappresento e davvero è frutto di un grande lavoro di squadra tra le istituzioni politiche, istituzioni sportive e le società in un periodo storico sicuramente non favorevole per lo sport. Quindi il mio ringraziamento va non soltanto agli atleti che hanno raggiunto questi risultati ma anche a tutti quei dirigenti che lavorano dietro le quinte per farsi che questi risultati possano essere raggiunti. Mi aspetto una buona stagione perché comunque anche la scorsa ho lavorato molto bene quindi adesso mi sto allenando e vediamo le prossime gare, gli italiani come vanno. Mi sto allenando bene quindi abbiamo delle buone prospettive per i prossimi appuntamenti. Allora il 2023 è stato un anno di grande ripresa e di una carica di pressione non indifferente per quello che il governo ha messo in gioco ovvero una riforma che per quanto abbia tanti contenuti importanti ha messo gli addetti ai lavori in forte difficoltà ed ancora non ne siamo del tutto usciti però ne stiamo uscendo organizzandoci e contando sulle nostre forze e sulle nostre capacità che contraddistinguono lo sport dilettantistico. Il 2023 comunque è stato un anno che ha visto di nuovo riempire le palestre come il periodo pre-covid anzi con numeri ancora più grandi quindi la forza dello sport ha ripreso il suo cammino e vola alla grande.